In realtà è molto breve, in primo luogo voglio rinnovare il benvenuto agli ospiti dei vari paesi, cioè della Grecia, della Francia, dello Stato spagnolo e della Germania che hanno accettato di discutere qui insieme a noi dei problemi comuni e poi naturalmente di Giovanna Capelli di rifondazione, organizzazione con cui continuiamo ad avere una discussione qualche volta accesa, qualche volta anche di elementi di convergenza. Abbiamo invitato anche qualche altro ospite italiano che magari ci raggiungerà più tardi nel corso della discussione. Concentreremo in questa prima parte della discussione le relazioni, gli interventi, i contributi degli ospiti e poi avremo, se c'è il tempo, già stasera e poi sicuramente domani, tutti gli altri contributi utili a sviluppare questa riflessione politica che insieme stiamo facendo. Qual è quindi il senso di questa parte centrale del seminario? Sapete che abbiamo avuto questa mattina e ieri due workshop abbastanza significativi. Uno centrato, il primo, sulle questioni della classe lavoratrice soprattutto sui problemi dell'unità delle risposte oggi alle politiche del governo nei luoghi di lavoro ma anche dell'unità delle correnti del sindacalismo classista. Poco fa dei compagni mi chiedevano se abbiamo informazioni sulla assemblea dei delegati della FIOM che c'è stata ieri e questa mattina sì, abbiamo alcune informazioni che vi daremo successivamente nel corso del seminario stesso. E poi stamattina invece un primo tentativo però assai interessante di riflettere su un tema che è quello del lavoro ambientale e più in generale delle questioni che riguardano l'ecologia, il rapporto tra la prospettiva della difesa dell'ambiente e quella della lotta contro il capitalismo un primo a discussione per noi che avrebbe naturalmente meritato più tempo però per noi era un'anteprima di riflessione che da quel che mi hanno detto, io l'ho assistito molto poco, hanno detto compagni e compagni è stata una cosa stimolante ecco, semmai diciamo da riprendere appena sarà possibile. Adesso ci concentriamo su quello che è l'elemento centrale di questo seminario qui una riflessione congiunta insieme appunto a rappresentanti politici di organizzazioni che come noi perseguono l'idea di costruire un progetto alternativo e un'organizzazione politica anticapitalista di trasformazione nella realtà. dico subito che in altre occasioni, in altri momenti congressuali di altre forze politiche l'intervento dei delegati esteri o degli invitati esteri è soprattutto un fiore all'occhiello un'informazione, un modo per far brillare di più i rapporti internazionali che magari queste forze intervengono. non è questo, diciamo così, noi chiediamo alle compagnie e compagni che qui interverranno proprio un contributo per capire non solo le cose che fanno ma i problemi che incontrano nelle cose che fanno, nelle difficoltà che hanno ad affrontare la lotta di classe nei loro differenti paesi. Non cerchiamo neanche un, diciamo, non abbiamo un modello di costruzione. guardiamo con interesse, con estremi interessi, tanto è vero che diamo per primo la parola al compagno Sotiris Martalis della Grecia, perché è una situazione particolarmente chiave nelle vicende europee, guardiamo con grande attenzione a Siriza, al dibattito di questa organizzazione politica, guardiamo naturalmente con grande attenzione all'esperienza in corso di Podemos in Spagna e abbiamo sempre seguito anche per vicinanza politica e di confini geografici da sempre quanto succede nella situazione francese e naturalmente crediamo che sia utile avere il contributo anche di quanto sta accadendo in Germania per quanto riguarda il mondo del lavoro e per quanto riguarda la politica. Quindi uno scambio di esperienze, di problematiche, dei tentativi, degli approcci che loro hanno anche delle parole d'orne, per esempio in certe situazioni come la Grecia e parzialmente da quel che ci è stato detto, poi lo sentiremo anche in Spagna, la parola d'orne per esempio di quale governo è un elemento centrale del dibattito politico, quale governo alternativo a quell'attuale dei rappresentanti della Troica e della borghesia indigena ed europea. Anche perché vogliamo far questo? Anche per un altro elemento, perché tanto per rimanere nella polemica politica italiana, quanti in Italia conoscevano l'esperienza di Siriza fino a poco tempo fa? Quanto è stato fatto da parte dell'organizzazione della sinistra in Italia per sostenere fin dall'inizio le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori greci? Molto poco, compreso noi, parla autocriticamente anche per sinistra anticapitalista. Poi la folgorazione improvvisa e adesso è di moda Siriza, ottima cosa. Io vorrei, e lo anticipo in qualche modo, vorrei che fosse di moda non solo un nuovo mito, perché non dobbiamo avere miti, ma esattamente quelle battaglie che stanno conducendo le lavoratrici, i lavoratori greci. Tra l'altro qui avete visto laggiù c'è in mostra un manifesto, un manifesto delle lavoratrici delle pulizie del Ministero delle Finanze, se non vado errato, che sono state licenziate. È un manifesto molto carino perché riproduce il vecchio manifesto di Lenin che spazza i borghesi, i capitalisti, i padroni dal mondo. Le lavoratrici del Ministero dell'Economia spazzano via il Benizelos, che credo sia il Ministro dell'Economia, e Samaras, che è il primo Ministro. Una battaglia durissima che conducono da molto tempo. Vi propongo che almeno ogni circolo nostro, acquisti o i singoli compagni prendano in manifesto, diano un contributo che sarà di sottoscrizione per quella lotta durissima e generosa che chiama in causa anche il sentimento di ognuno di noi. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere verso quel che succede in Grecia. Non il mito, ma una partecipazione forte, diretta, alle lotte che potranno essere anche molto dure. Quindi un'attenzione per capire attraverso gli interventi dei compagni e dei compagni quali sono non solo le politiche della borghesia e dei governi, ma anche come li gestiscono socialmente. Pensate noi, loro hanno cambiato l'ETA con Renzi esattamente per poter avere una gestione più efficace dal punto di vista sociale, che ha creato parecchia confusione anche nelle forze della sinistra. Anche perché molte volte assistiamo sempre di più a una combinazione micidiale da parte delle classi dominanti di mettere insieme le politiche liberiste fino in fondo e nello stesso tempo politiche, campagne nazionaliste sempre più forti e violenti che ormai caratterizzano una parte dei paesi dell'Europa, per non parlare del fatto che il malessere sociale fa crescere anche le destre e l'estrema destra e qui sia in Francia che in Grecia abbiamo degli esempi diversi tra di loro ma sicuramente particolarmente consistenti nella dimensione sociale che loro hanno e nella pericolosità politica che loro hanno. Per noi è importante anche una riflessione sulle questioni del sindacalismo di classe, ovviamente noi in particolare, essendo la nostra organizzazione per la sua storia e le sue vicissitudini. Avendo un lavoro in particolare in questo mondo nel lavoro, essendo particolarmente impegnati nelle vicende del sindacalismo di classe, chiediamo un contributo anche in tal senso sulle esperienze degli altri paesi per capire come le rispettive organizzazioni si stanno muovendo in questo ambito. Naturalmente per me è molto importante, l'ho ascoltata anche in altre occasioni, come le organizzazioni si rivolgono alle lavoratrici, ai lavoratori, per esempio come parlano le altre forze politiche, sto pensando alla Grecia quando rivolge i compagni greci, parole d'ordine di unità verso il partito comunista, verso Antarsia o come i compagni francesi si risvolgono alle altre organizzazioni politiche. Così per la Spagna, per noi è importante capire, perché magari può esserci un suggerimento, può essere semplicemente che le condizioni siano assai diverse, che si pongono in modo diverso. Perché la conclusione di tutto questo qual è? La conclusione è semplicemente che noi vogliamo anche attraverso questo dibattito avere più strumenti per interverire nella realtà italiana e per costruire anche una, non solo una sensibilità, ma un'azione concreta e internazionalista che vuol dire di sentire fortemente quel che avviene in altri paesi come un pezzo della lotta che stiamo facendo noi qui. E questo deve permetterci anche, per esempio, esattamente di fare quel che dicevo prima, è inutile dire ah che bello facciamo come Podemos, facciamo come Siriza, è chiaro che una delle discussioni è come vengono costruite le organizzazioni della sinistra, come anche si cerca l'unità delle forze della sinistra che ancora ci sono, è uno dei temi della discussione politica che noi abbiamo di fronte. Ma per arrivare poi alla sostanza, la possibilità non solo di incontrarsi nei convegni, ma la possibilità che se, come pensiamo, ci sarà altre resistenze, altre mobilitazioni, altre lotte, noi siamo capaci non solo di farle conoscere, ma possibilmente di costruire la solidarietà internazionale. Perché se la lotta di classe, per esempio in Grecia, si svilupperà in un certo modo, nel modo con cui i compagni propongono che avvenga di un'alternativa di sinistra, di un governo di sinistra in quel paese, il problema sarà quello di costruire anche la mobilitazione e la solidarietà, perché ne avranno sicuramente bisogno, perché si troveranno di fronte enormi problemi e si troveranno di fronte delle classi dominanti che sicuramente utilizzeranno molti strumenti e tutti gli strumenti per bloccare, far arretrare, sconfiggere quei tentativi, oggi un tentativo di una prospettiva alternativa, cioè di una battaglia alternativa reale al sistema capitalistico esistente. Questo è il senso, l'obiettivo di questa parte del seminario, quindi non una parata di stelle, anche se per noi i compagni e i compagni sono stelle, apparteniamo alla stessa classe e alle stesse battaglie, quindi sono compagni e compagni fraterni, uso purtroppo solo la versione maschile di fraterno, non mi viene bene quella femminile, perché insieme abbiamo ideali comuni, volontà comune e grande necessità di discutere insieme per affrontare dei problemi che finora non abbiamo ancora saputo affrontare bene, ma che dobbiamo saper cogliere in tutta la loro importanza e individuare i percorsi che ci permettano di modificare i rapporti di forza e di ricostruire condizioni intendendo in senso generale di alternativa. Prima ci sono molti passi in tanti paesi da costruire, passo dopo passo però con una bussola molto precisa. Ce la faremo, dobbiamo provarci e tutto sommato bisogna essere ottimisti, giovani o vecchi o meno. Dobbiamo esserlo perché è inaccettabile questo tipo di società, non è una questione morale, è anche una questione morale, ma è soprattutto una questione politica che richiede tantissima volontà anche quando sembra che la marea sia troppo altra e non la possiamo contrastare. Dobbiamo provarle a contrastarle. Grazie, ho finito.